Andiamo, si ci sto Ci sto Ok, nice Ma come spaz? Mi sa che c'è gente eh Ok, hanno fatto un disastro qui, mi avvicino Ma sbaglio, hanno aggiunto molti più gnomi nella mappa Si, si, ci sono una valanga di gnomi Ciò la metto qua, mi avvicino sneaky C'è boxato eh, piccolo bastardo quadrupede Porco, porco il c***o Rega ha fatto il pazzo Ma che c***o fa? Che cosa cosa c***o fa? Rega il fazzerello Allo chiuderello Si è abbonato qua, che c***o fa? Scusate, dove andiamo? Ma... Si, è quello? No, abbiamo andato la mano impossibile Aucce, vado a investire il bastardo con la coda Che di p***ana che scappi dove c***o Tira dentro questa m***a Grandi difficoltà con il lama Andiamo a vincere questo game Il quadrupede Comunque stavo seriamente pensando Ne parlavo in questi giorni con la PAMI Di farmi a cavallo tra quest'anno e l'anno prossimo Un tatuaggio dedicato a Fortnite Pensavo di fare... Il personaggio con l'RPG che solo sta per sparare contro un muro Signor, io vi dico una cosa Qua c'è un altro lama Andiamo Nooo, ma... No, 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 no E... Nooo È salito sull'auto M***a, tre lama in un game, ragazzi What the f*** Sì, l'Axuder Classic penso che sia la cosa Che mi ricorderò di più Quattro anni e ancora si spara l'RPG in faccia Andiamo? Sì Veramente Anche perché ripeto, io ripeto, sulle gambe ho già un muro E quindi potrei agganciarlo come... come tatuaggio Ma... Ragazzi, ragazzi No Ma... Ma come dentro là? No, no, no È qualcosa di strano qua Stavano aspettando questi Sì, gli snappi Sicure Prendiamoli prima perché io lo voglio aprire il quarto lama Uno nel bush No Ma... Guaito Sì, ma non muore Easy Lo tiro su, lo tiro su Voglio andare ad aprire il quarto lama Vieni, vieni, vieni sul lama Eccolo, eccolo No Apriamo il lama, apriamo... questo qua è il polletto No, qua è un pollo È qui, è qui, è qui, è qui Faccio mare che io Quattro lama in una partita, uno dietro l'altro WTF Quattro lama è la prima volta che mi capita in assoluto Vieni, 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 vieni Andiamo Quattro lama Ma... Oggetto che si sta faiando il gesto Io rientrerò in zona in realtà Sì, 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 quello che io Allora ci vuole la vittoria Ci sono cinque lama a game Anch'io ricordavo una cosa così Ma... Traccato il ca... L'unicorno Tua madre è quell'unicorno di merda Qualcuno gli spari, Gesù Cristo Tua madre è quella cavalla di merda Vi piaceva ciucciarla È la... Bosca aiuto No, sta... sta vloggando Sta vloggando, scusami Eccomi ora Mi ha rubato tutto quanto Ma... Allora, allora Non ho un'idea Bravo Bosca Bravo Bosca Non fa niente, fa niente, fa niente C'è la schedina? Eh no Dov'è? Sotto Qua Guarda che pompata mi ha tirato E poi usiamo la jump che c'era sopra Sì Il Bosca è già andato di prepotenza Sì Il Bosca mi li tirino anche me Perché se no schiatto Potrete provare qua eventualmente Ma comunque ho un pad eh Mettete giù il pad e andate Ho già che c'è gente, potrebbe farvi droppare Ottimo Io sapevo ragazzi che i lama erano cinque a game Vedete che vola? No, no, no Ragazzi a sinistra, guardate a sinistra Puoi pensare al rest anche qua? Però... Sì volendo sì Beh la safe toglie ancora uno Quindi in realtà Potresti farlo Minchia raga cinque lama Se riesci a rebuttare Ancora goto Intanto qui ci sta il pad Sì Andiamo in zona magari verso il ping rosa Solamente ho quattro colpi del mondo Ah allora è vero che glieli devo dare Tranquillo tranquillo Arrivo 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 Attento Luca Sì 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 c'è gente sotto No mi stanno sparando No Mi sparano? Sì 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 Perché c'è così tanta gente? Non vediamo Vedete le persone che ci sei Ragazzi a me mi stanno distruggendo Eh Luca lì Eh no Due Non fare nulla Bosca Guattane Proviamo eh Peccato 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 Con questo medikit Eh Potrebbe provarci di nuovo ma è una follia No Non Non le conviene O mi claccia tutto quanto Quasi impossibile però Se ci prende le schede La giochi per le schede Via i due cilidoni E dentro il medikit Vai Vai sulle schede Pregatene della zona Riprova il reboot Se non sei Non la puoi usare Questa ti serve troppo Le schede sono a destra No no il veicolo ti sentono Eh lo so davvero Secondo me è pericolosissima Eh no 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 c'è gente qua davanti A sinistra A sinistra Certo che sei circondato Siete in 18 WTF Vai 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 dritto per dritto Non fare niente di strano Non fare nulla Non fare nulla Non tira dritto Tira dritto Ok comincia ad allargarti sulla destra Sui ciaspugli Sui ciaspugli a destra E prendi le schede vai Con calma Con calma Ti dico io quello che devi fare Prendi solo le schede adesso Riva del Luca Cerca di rientrare Qua 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 Il più largo Vai tutto sinistra Bravissimo bravissimo Vai 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 Esatto 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 Proprio quello Non consumarla finché hai il potere Se arrivi lì Rebutti e riapri tutto Eventualmente qui una piramide su queste cose Stai attendo perché potrebbero averle presa anche altre persone Potrebbero essere lì eh Però prevedisco prenderlo Vai Controlla bene Sì 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 Vai apri tutto vai Riapri il game Riapri il game Attenzione No c'è gente No c'è gente C'è gente Ma come? C'è gente sopra No no Mannaggia Vi ho ancora uno No mi sa che va bene Giocatela eh Eh Come cosa possiamo fare? No non ci credo Ecco Xiuscat Anche meglio Non sanno loro dov'è Porti Non ammazzo No No Bella partita però eh Però non avevo mazza No Eh non ho punto Porca la puttana merda Porca la puttana merda Era una partita God